Benvenuti per un nuovo video. Il nuovo appuntamento con il notiziario Spazio Professioni. Il Ministero della Giustizia non ha impugnato la sentenza del Tar del novembre 2015 che aveva accolto il ricorso con il quale il Consiglio nazionale della categoria dei commercialisti aveva impugnato il decreto pubblicato nel settembre 2014 che prevedendo la laurea magistrale tra requisiti di iscrizione negli elenchi degli organismi di composizione escludeva di fatto quei ragionieri che sprovvisti di laurea magistrale. Dovevano considerarsi comunque abilitati alla funzione di gestori delle crisi in quanto iscritti alla sezione A dell'albo dei commercialisti. Il termine ultimo per l'impugnazione della sentenza del Tar è scaduto lo scorso 4 maggio pertanto è ora garantita la possibilità di iscrizione negli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento da parte di tutti gli iscritti nella sezione A dell'albo dei commercialisti senza esclusione. Firmato lo scorso 16 di maggio un accordo tra la Fondazione del Politecnico di Milano e Conf Professioni Lombardia per estendere e promuovere anche ai giovani professionisti la partecipazione al programma europeo Erasmus per giovani imprenditori. Valentina Valente ha intervistato per noi Eugenio Gatti direttore generale di Fondazione Politecnico di Milano e Giuseppe Calafiori presidente di Conf Professioni Lombardia i due firmatari dell'accordo. E allora sentiamo proprio dalle loro parole in cosa consiste il programma e quali sono i vantaggi per i professionisti. Ingegner Gatti, che cos'è e come funziona l'Erasmus per giovani imprenditori e professionisti? Sì, Erasmus per giovani imprenditori è un programma che permette a giovani start up e anche da ora in avanti a giovani professionisti di poter avere periodi di scambio all'estero con colleghi di altri paesi della comunità europea e al tempo stesso di poter ospitare all'interno degli studi professionali e degli incubatori italiani e di Milano realtà di colleghi esteri. Quindi su questa linea si muove l'accordo che abbiamo siglato oggi con Conf Professioni che ci vedrà poter offrire le attività e i servizi di questo progetto anche ai professionisti italiani. Presidente, un Erasmus per i professionisti. Quali saranno i vantaggi? I vantaggi saranno innanzitutto per i professionisti che saranno ospitati all'estero. Si tratta di professionisti con meno di tre anni di attività che potranno così completare la loro preparazione professionale guardando in concreto come all'estero viene esercitata la professione che poi vorranno svolgere in Italia. I vantaggi saranno anche per i professionisti che ospitano perché per i professionisti più esperti è il primo modo concreto di creare reti e relazioni con professionisti stranieri i quali essendo stati per un periodo massimo di sei mesi nel proprio studio diventeranno io credo gli interlocutori privilegiati sia per la prosecuzione di attività comuni in Italia sia appunto per la risoluzione di tutti i problemi che oramai vedono i cittadini europei in qualche modo coinvolto in tutti i 28 paesi. Quali saranno quindi le categorie professionali coinvolte? Beh tutte in linea di principio tutte le categorie che le diverse categorie delle 4 o 5 grandi aree che contraddistinguono l'attività con professioni. Pensiamo a edilizie e territori, ambiente e territorio, poi abbiamo l'ambito economia e lavoro quindi i consulenti del lavoro, i commercialisti, i revisori contabili. Poi abbiamo anche nell'ambito sanità e salute perché i dentisti, i veterinari oltre che i medici di medicina generale e gli psicologi e poi l'ambito del diritto e giustizia con gli avvocati e i notari. Come saranno selezione delle strutture sia in Italia che all'estero che ospiteranno i giovani? Beh questa è la sfida concreta. La sfida concreta è innanzitutto sensibilizzare in Italia il maggior numero di professionisti milanesi e lombardi per dare la propria disponibilità a ospitare professionisti stranieri. Poi con professioni per quanto riguarda l'estero come dicevo fa parte del CEPLIS che è il Consiglio Europeo delle Libere Professioni e quindi sicuramente quelli saranno gli interlocutori privilegiati perché i professionisti che aderiscono a CEPLIS in Germania, in Francia, in Romania e negli altri paesi europei evidentemente saranno i primi a essere contattati per trovare disponibilità nell'accoglienza di professionisti italiani. Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia ha pubblicato lo scorso 10 di maggio l'Osservatorio sulle partite IVA. A quanto si legge nel rapporto nel mese di marzo 2016 sono state aperte 51.009 nuove partite IVA. In confronto con il corrispondente mese dell'anno precedente si registra una leggera flessione del 2,7%. La distribuzione per natura giuridica mostra che il 71,6% delle nuove partite IVA è stato aperto dalle persone fisiche, il 22,4% dalle società di capitali e il 5,3% dalle società di persone. Riguardo alla ripartizione territoriale il 43,2% delle nuove partite IVA è localizzato al nord, il 22,4% al centro e il 34,2% al sud e sulle isole. In base alla classificazione per settore produttivo il commercio continua a registrare il maggior numero di aperture di partite IVA, il 22,4% del totale, seguito dalle attività professionali e dall'agricoltura. Rispetto al mese di marzo 2015 tra i settori principali si registra un inclemento delle nuove aperture nel comparto delle attività professionali che crescono di oltre l'11%, dell'istruzione che cresce quasi del 9% e dell'agricoltura che fa registrare un più 6%, mentre si segnalano cali di avviamenti nelle attività manifatturiere, nel commercio e nell'oreggio alle imprese. Il 17% di coloro che a marzo 2016 ha aperto una partita IVA risulta nato all'estero. Questa era la nostra ultima notizia, il notiziario Spazio Professioni torna come sempre la prossima settimana. Grazie a tutti.